Cari amici del canale, rieccoci, buongiorno, buon mercoledì a tutti, ci siamo. Finalmente è arrivato il giorno, finalmente è arrivato il giorno della partita contro il Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Sale l'attesa, sale la tensione, ieri il mio amico Marco mi ha scritto su Whatsapp già dai momenti in cui eravamo a Milanello per la conferenza di Pioli, che ansia e che tensione, questa mattina Samu su Instagram mi ha scritto in privato, c'è troppa attesa, c'è troppa ansia. Ed è vero, perché il Milan dopo 11 anni, torna a giocare un quarto di finale di Champions League. È vero che non lo farà contro una squadra straniera, lo farà contro una squadra italiana, un inedito, perché Milan e Napoli non si sono mai sfidate ai quarti di finale di Champions League, tanto è vero che per gli azzurri è la prima volta in assoluto una partita ai quarti, quindi il loro risultato storico in teoria lo hanno già raggiunto. Diversamente per il Milan è che nella storia ha abituato i tifosi rossonieri a vincere questo trofeo, lo ha vinto sette volte, sette volte campione d'Europa il Milan, ricordiamolo. Però è ovvio che questa è una partita complicata, quindi sale l'adrenalina, l'attesa, l'ansia, l'aspettativa su questo match, anche perché da un lato il Milan, anche fortunatamente, riesce a ritrovare tutti i suoi giocatori, il Milan arriva al completo a questo match, dall'altro lato il Napoli ha un paio di defezioni importanti, Simeone e soprattutto Victor Ozyman, perché comunque l'attaccante nigeriano nell'economia di un match pesa, pese come, parliamo del capocannoniere della Serie A, un giocatore che riesce ad inventare gol anche dal nulla, quindi non averlo contro io credo sia comunque un vantaggio per il Milan, e il Milan deve sfruttare questo vantaggio, deve provare a sfruttare innanzitutto il fattore stadio, saranno quasi 75.000 spettatori allo stadio, deve sfruttare il fattore casalingo del pubblico, l'affetto, il calore del pubblico rossoleno, tra l'altro ci sarà una mega coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio, sarà un qualcosa di eccezionale questa sera per i fortunati che saranno allo stadio, mi ci metto tra loro perché sono anch'io fortunato a riuscire a vedere una partita del genere, mentre il Milan deve sfruttare anche il fatto che dall'altro lato, almeno per la gara d'andata, non c'è Ozyman, nemmeno convocato, poi vedremo nel match di ritorno. Tra l'altro, prima di parlare della probabile formazione, in questo video parlerò anche di una teoria assurda, a mio modo di pensare, una teoria che riguarda Milan, Inter e Napoli. Ne parleremo tra qualche secondo di questa teoria. Innanzitutto vi dico che il ritiro del Milan ieri sera era facoltativo, quindi chi voleva andare in hotel già da ieri sera poteva farlo all'hotel Melià, poi il ritiro alle 9 stamattina era invece obbligatorio. Quando succede questo, gran parte, quasi tutti i giocatori si presentano direttamente il giorno dopo, perché la sera preferiscono stare con le famiglie e con le rispettive compagne. Invece cosa è successo in questa partita? È successo che Rafa Leao già ieri sera è andato in ritiro, uno dei pochi, veramente pochissimi, credo 3 o 4 giocatori su una rosa da 25, ieri sera ha scelto di andare in ritiro all'hotel Melià. Quindi è un segnale di un giocatore concentrato sulla partita. Perché io penso sempre che i giocatori potevano benissimo stare con le loro famiglie ieri sera a casa e poi il giorno dopo andare in hotel, come è sempre stato fatto, bene o male. Invece ieri sera Rafa già pensava alla partita, già si era proiettato sul match e ha scelto di sua spontanea volontà, proprio perché è facoltativo, di presentarsi in hotel, di andare a dormire in hotel. E questo secondo me è un bel segnale. È un segnale di un giocatore che comunque vuole fare le cose per bene, vuole dare un contributo importante alla sua squadra questa sera. E c'è grande attesa su Rafa Leao. Dopo la doppietta al Maradona, poco meno di dieci giorni fa, allo stadio Maradona di Napoli, col 4 a 0, Leao è stato uno dei protagonisti. Rafa, anche stasera a San Siro, vuole tornare a segnare, vuole tornare a vincere, vuole essere protagonista di questo match. Naturalmente i tifosi del Milan non aspettano altro. Abbiamo anche segnalato l'arrivo di Calulu, quindi ufficialmente Calulu rientra nella lista dei convocati. Ieri ha svolto allenamento con il Milan, tutto l'allenamento quindi è recuperato e oggi è stato anche convocato. L'abbiamo visto arrivare stamattina in hotel per il ritiro dei rossoneri. Non dovrebbe giocare dall'inizio. I difensori centrali dovrebbero essere Tomori e Kier, mentre a sinistra e a destra Theo Hernandez e Calabria naturalmente davanti a Mike Mignan. A centrocampo Tonali e Krunic con Ben Asser, anche lui è arrivato veramente in mattinata all'hotel sulla tre quarti, con Brahim a destra, Leo a sinistra e naturalmente lì davanti Olivier Giroud. Parlavo di questa teoria assurda, perché? Perché ieri sera sapete benissimo che l'Inter è riuscita a battere 2-0 il Benfica, 2-0 fuori casa, ha già metà piede, anzi un piede, su due in semifinale e in effetti servirebbe un 3-0, un tre gol di scarto al Benfica nel match di ritorno per superare il turno. quindi l'Inter ha costruito comunque il metà ponte verso il passaggio alla semifinale. Questo cosa vuol dire? Che il Milan, se dovesse superare il Napoli ai quarti di finale, andrebbe a sfidare l'Inter in semifinale. È un qualcosa che è già avvenuto nel passato, un qualcosa che scatenerebbe anche e anche ulteriori ansie e tensioni in quelle 2-3 settimane in cui ci sarà questa sfida. E allora cosa ho sentito? Ho sentito dire anche da alcuni tifosi del Milan, leggendo un po' sui social, risposte varie anche sui social, che sarebbe meglio per il Milan uscire ai quarti di finale con il Napoli per non beccare l'Inter in semifinale. Io penso che questo sia un qualcosa di assurdo. Cioè pur di non sfidare l'Inter in semifinale perché sarebbe comunque una partita ad altissima tensione, emotiva ovviamente intendo, allora si preferisce perdere col Napoli ai quarti in modo che poi la semifinale sarà Napoli-Inter ed è un match, tra virgolette, disinteressato per alcuni tifosi rossoneri. Io penso sinceramente che sia un qualcosa di assurdo. Anche se capisco che si voglia evitare una grande ansia nell'eventuale passaggio in semifinale con l'Inter, però questa è una competizione che è affascinante proprio per questo motivo. La Champions League è la Champions League. La Champions è vero che si vivono dei giorni, delle settimane di ansie, di tensioni, anche di preoccupazione, ma è anche il bello di questa competizione. Il Milan deve fare di tutto per superare il Napoli, per andare in semifinale. Se in semifinale ci sarà l'Inter, vivremo quei giorni ad alta intensità con l'Inter. Si proverà anche magari a superare l'Inter e ad andare in finale. È così la Champions League. In passato il Milan ha fatto proprio così. Anche in passato il Milan non era tra le favorite a vincere la Champions. Mi ricordo anche nell'ultima edizione quella vinta ad Atene. Il Milan non era tra le squadre favorite. Eppure, pian piano, una partita alla volta, un mattoncino alla volta, un match alla volta, è riuscito ad arrivare in finale e ad avere la rivincita contro il Liverpool. Vi ricordate? La rivincita rispetto a Istanbul. Quindi, ragionare in questo modo, perché l'ho visto e l'ho letto da qualche parte ieri, secondo me è un ragionamento che non si addice ad un tifoso del Milan che sostanzialmente di queste partite, di queste serate, ne ha vissute tante in passato e non si addice nemmeno allo spirito di questa competizione. Se il Milan supera il Napoli e incontra in semifinale l'Inter, si affronterà anche l'Inter. Ci sarà ansia, ci sarà attenzione? Sì, ma si vive anche quella in questa competizione europea, nella competizione della Champions League. Dunque, ci vediamo questa sera a San Siro. Ci saranno tanti tifosi, arriveranno da qualsiasi parte d'Italia. Purtroppo, il meteo non sarà dei migliori perché ci sarà pioggia. Vedremo, insomma, che tipo di partita fare il Napoli. Qualcuno dice sarà una partita chiusa da parte della squadra Lucero-Spalletti che verrà a Milano per non perdere, magari anche per strappare un pareggio visto l'assenza di Osimene e poi rimandare tutto nel match di ritorno al Maradona. Vedremo. Io mi auguro di vedere una bella partita anche per, tra virgolette, ringraziare virtualmente i tanti tifosi che comunque fanno sacrifici economici e di spostamenti vari da qualsiasi parte d'Italia e d'Europa per essere a San Siro e per vedere questa partita, per vedere questo spettacolo di Champions League tra Milan e Napoli. A stasera! Grazie!